La Corte Europea dei diritti dell'uomo rigetta il ricorso dell'Italia e conferma che dovrà entro un anno trovare una soluzione al sovraffollamento carcerario, nonché risarcire i detenuti che ne sono stati vittime. Una sentenza che il deputato Nicola Molteni commenta così. La sentenza della Corte è la conferma di una cosa chiarissima, cioè il fallimento di tutte le politiche del governo italiano in questi anni in materia di sovraffollamento delle carceri. La conferma di quello che la Lega ha sempre detto, cioè che il problema del sovraffollamento delle carceri non può essere risolto con dei provvedimenti, con delle misure tampone, occasionali, emergenziali, ma deve essere risolto in modo strutturale ed organico. Lo ripetiamo, lo ribadiamo, sono anni che lo diciamo. Inascoltati, il problema del sovraffollamento delle carceri lo si può risolvere unicamente costruendo nuove carceri. E ricordo che ci sono 650 milioni del piano carceri stanziati dal passato governo e vogliamo sapere quanti di questi soldi sono stati spesi. E poi, considerato il fatto che 23 mila detenuti presenti nelle nostre carceri sono stranieri, più del 30%, nelle carceri del nord la percentuale di detenuti stranieri arriva oltre il 50-60%, facendo scontare ai detenuti stranieri attraverso degli accordi bilaterali con gli stati esteri la pena nei propri paesi d'origine. Qual è il timore? È che di fronte a questa sentenza, sentenza della Corte che obbliga sostanzialmente l'Italia a sanare il problema del sovraffollamento entro un anno, il timore è che qualcuno del governo, della maggioranza che sostenga questo governo, tenti di risolvere questo problema attraverso un colpo di spugna. Il colpo di spugna si chiama indulto-amnistia. La storia insegna che il problema delle carceri non lo si risolve con l'indulto e con l'amnistia, che anzi genera insicurezza sul territorio. La Lega controllerà e farà una battaglia durissima per impedire che i provvedimenti indultivi e clemenziali, che danneggiano la sicurezza dei cittadini, possano essere approvati da questa maggioranza.